praticamente è così ok ma qua ho preso un po di roba perché mi ricordo che c'era però c'era venuto troppo presto ecco 100 piedi aureo questo non avevo mai visto grazie a tutti grazie a tutti ok qua si tira il cocoso grazie a tutti 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 grazie a 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 tutti oddio grazie a tutti 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 oddio grazie a tutti 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 qua 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 grazie a tutti 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 sopra grazie a tutti 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 qua fuori grazie a tutti 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 cominciamo grazie a tutti 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 viola grazie a tutti 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 sono tutti grazie a tutti no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un colpo scalcherà grazie a tutti grazie a tutti